Nonna americana contro nonna italiana. Iniziamo con le domande facili e poi vediamo quelle piccanti. Come ti chiami? Connie? Maria Pier. Non si chiede ma quanti anni hai? 80. Prossimi sono 85. Di dove sei? Originally from Alabama, but been in Texas for 50 years. Io sono veneta, Venezia. Piatto preferito? Christmas fruit salad, I love it. Beh, non solo uno per carità. Preferito mi piace, un buon risotto, sì. Meglio l'hamburger o la pizza? Burger. Preferisco cose italiane, pizza. Che musica ascolti? I like music from the 50s and 60s and I like hymns that I can play on the piano. Beh, preferisco la musica classica. Partiamo dai nostri classici italiani, prima di tutto dai dal verde. Che cosa fai nel tempo libero? Take care of kids, take care of my grandbabies, great grandbabies, play games on my phone. Beh, super moderna. Leggere. Che cosa leggi? Storia. Qual è la lingua più bella del mondo? Probably English, without accent, just regular English. L'italiano. Perché è musicale. Dai un consiglio ad un ragazzo che vuole conquistare una ragazza. Just be friendly to her and be nice to her, get to know her and then eventually if he wants to take her out, he can take her out. If she'll go. Con sincerità, mi piace stare insieme a te. Ah, facile. Eh. Qual è la prima cosa che una ragazza guarda in un ragazzo? Probably good looks would be the first thing. Very first thing and then it goes more in depth after that. Io personalmente guardo gli occhi. Come si conoscevano le coppie 50 anni fa? Well, we met in school, in high school. We've been together since high school. Con molta discrezione. Di solito in compagnia. Era un altro modo di vivere. E come si conoscono oggi? Online. On the phone, whatever. Non so, loro hanno le loro compagnie fisse. Per esempio il mio pronipote ha conosciuto la sua ragazza nella compagnia. Oppure al liceo, alla scuola o all'università. E in linea? Oh, questa non sono pratica, non sono tecnologica, ragazzi. Ok. Qual è il segreto per una relazione di successo? That's a good question. What's a good answer? Be patient, understanding, don't fight, don't argue. We argue a little bit, but nothing in depth. Accepting him for the way he is. Soprattutto ci vuole molta comprensione, secondo me. E saper perdonare. Perché tutti possiamo sbagliare, siamo esseri umani. Ok, qualche domanda controversa per far arrabbiare qualcuno. Cosa ne pensi dell'amore tra persone dello stesso sesso? That's not my business. Perché no? Nessun problema. L'amore ha varie derivazioni di conseguenza. Perché? È giusto legalizzare la cannabis? It already is, pretty much. I don't know how bad of a drug it is. No, fa sempre male. Perché si incomincia da niente e poi si esagera, purtroppo. Chi è Kim Kardashian? She's on TV, has the Kardashian show. Ma quindi un influencer? She doesn't influence me, but she tries to influence other people. Sì, l'ho già sentito. Sinceramente in questo momento non ho presente. Viva la sincerità. Non lo so. Chi è Kaby Lame? No. Quello che fa così con le mani? No. E chi è? Chi è Elon Musk? Trying to make us buy electric cars. Non fa per me. Chi è Drake? Si è un comedian o un singer? Non lo so. Sì, dai, è un rapper. Rapper, ok. Ma dai, si leggeva nei fumetti, non so quanto tempo fa. Ah, cavolo, c'è anche un Drake dei fumetti, hai ragione. Comunque, sai chi è Chiara Ferragni? Non penso. Eh, come la chiamano? Influencer? Ecco. No, non mi interessa. È solo un'apparenza forzata. Però la conosce. Sentita più che altro, non frequenta. Cos'è un social network? Well, I guess where people have conversations online. Non so che roba sia. Avrai sentito parlare di Facebook? Non frequento queste cose, non sono tecnologica, ragazzi. Non ho computer, non ho niente pc, niente. Che cos'è Bitcoin? That's hard to explain and I don't have any, but I think some of my grandkids do. Sì, è quella valuta che sta rovinando parecchie persone, purtroppo. Perché è stata valutata molto male sin dall'inizio, secondo me. Beh dai, però lo conosci. Conosci. Sentito. Qual è la cosa più pazza che hai fatto nella vita? La cosa più stessa che ho mai fatto è volerlo in un hang glider. E si è riuscita in un telefono. Il parachutino era a fire. Ho lasciato a lavoro a mia lunch hour e era solo tornare a tornare molto rapido. E poi avevamo molti problemi. Io? A piedi nudi, ventro nell'acqua in piazza San Marco a Venezia. Mi sono divertita moltissimo. Quanti nipoti hai? I have six grandkids and four great grandkids. Dunque sei. Qual è il miglior consiglio di vita che puoi dare loro? Enjoy it while you can. Try different things. Travel if you can. Prima di tutto la sincerità. Essere sempre se stessi e la conoscenza. Cosa ne pensi dei video di Piazza Square? Video are great, I don't watch them very often, but... Il vostro canale non lo conosco, perciò non so cosa dire. No, 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 no. Grazie a tutti.